la mazza ha compiuto cent'anni adesso ripercorriamone brevemente la storia che inizia come produttore di sughero a hiroshima cento anni fa ma nel 1921 diventa già produttore di macchine utensili e subito di veicoli fino ad allora la filosofia è stata la ricerca di nuove strade nella tecnologia e nel design così nel 1991 è stato il primo marchio asiatico a vincere la 24 ore di le mani finora l'unico con un motore rotativo che poi aveva lanciato sul mercato sulla cosmo sport 110s nel 1989 ha creato la roadster a due posti di maggior successo al mondo la mx5 venduta in un oltre un milione di esemplari mentre oggi ha introdotto il primo motore a benzina con l'accensione per compressione lo sky active x e oggi presenta la mx30 la prima auto elettrica che è un richiamo al passato perché li intendi sono ecologici in sughero